Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignoni. In A11 in direzione Pisa si segnala al chilometro 41 nei pressi di Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese, rallentamenti e code per incidente. La ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, Massa Carrara, in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Infipili per lavori di messa in sicurezza del viadotto del Turbone, code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginesta Fiorentina in direzione Firenze. Nel raccordo stradale Siena-Firenze in direzione Siena dal chilometro 51 al chilometro 53, chiusa la carreggiata est con doppio senso di marcia nella carreggiata ovest e scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze-Impruneta in direzione Firenze. Nel raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno per lavori nei pressi dello svincolo di Petraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!